ciao a tutti da Marco Domeniconi il vostro spero preferito consulente musicale parliamo del Rem adesso 1987 questa è The One I Love prima che diventassero famosi con Luzio e Mario Ligio Michael Stipe, Peter Buck e Rem a simple bra to occupy my time this one goes out to the one I love vengono da Athens in Georgia Ascoltiamo la prossima che ripresa anche Ligabue in italiano It's the end of the world ben esultato anche nel film Independence Day è la fida del mondo per come lo conosciamo ma io sto bene lo stesso questo è il testo della canzone un po' inconsciente forse e allora potrebbe essere un buon punto di vista Michael Stipe cantante, Peter Buck la chitarra i mitici Rapid Eye Movement How We Are It's the end of the world as we know it it's the end of the world as we know it and I feel fine It's the end of the world e Rem It's the end of the world as we know it una canzone molto attuale potete dire it's the end of the world it's the end of the world erano i Rem Rapid Eye Movement sta per movimento rapido della pupilla la fase Rem in cui i sogni sono più profondi ogni mattina un ospite di rilievo con noi oggi Marco Domenicone di rilievo è il testo di rilievo